La novità principale è rappresentata da Luigi Pezzella. Ha scelto lui la dirigenza del team Altamura per guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie D. Allenatore giovane reduce dell'esperienza al Nola, un tecnico che ha l'ambizione di emergere soprattutto tanta voglia di cimentarsi per la prima volta in carriera nel girone H di Serie D. Tanti gli aspetti incoraggianti già emersi. La sua tranquillità, la sua grande capacità tattica che in questi giorni ha cercato di portare in campo ai ragazzi vogliosi di proseguire questo percorso insieme con la team Altamura ed apprendere tutto da lui. La sua grande esperienza negli ultimi anni da calciatore dove ha vinto sette campionati alla porti slunga. Undici, al momento le operazioni ufficializzate tra entrate conferme dal team Altamura. Spicca certamente l'arrivo dell'esperto Beppe Matera in difesa senza dimenticare. Carlo Clemente e Gianmarco Monaco in mezzo al campo, entrambi reduci dalla positiva stagione trascorsa con la Fidelisandria. Già definite nel frattempo altre quattro operazioni in entrata. Davide, cancelliere esterno del 2002 ex Caravaggio, Michele Sernia centrocampista del 2001 ex Taranto, Gibril Togorà laterale transalpino del 2002 ex Picerno e Babandiai esterno offensivo senegalese del 2000 ex Foggia. Continua invece la trattativa con Vittorio Esposito reduce dalla vittoria del campionato di serie di con il campo basso. Per Vittorio Esposito c'è una lunga fila di squadre. Probabilmente chi giocherà al rialzo più di tutti lo porterà a casa. Noi abbiamo fatto la nostra offerta, poi il calciatore o chi segue la sua immagine deciderà. Quest'anno, a differenza di quanto accaduto durante l'estate del 2020, il team Altamura ha deciso di partire senza proclami. Meglio non caricare di eccessive pressioni. Il gruppo di Pezzella. Purtroppo il Gironi H ha così tante insidie dove puoi partire per vincere il campionato e poi ti ritrovi magari a metà classifica. Noi faremo sempre la miglior squadra possibile che è la città di Altamura Meriti. Poi le classifiche, gli obiettivi si vedranno nelle prime giornate. Poi a fine giro di andata si tira una linea e si capirà meglio. Sperando naturalmente che questa brutta pandemia si riesca almeno a gestirla meglio dello scorso anno. Grazie. Grazie.